Dopo 162 partite e 6 mesi di stagione regolare siamo finalmente arrivati al momento clou della stagione 2021 della MLB o meraviglioso gioco del baseball. Parliamo della postseason 2021 che parte questa sera alle ore 8 costa est per il match della wildcard dell'American League. Subito come vediamo dal tabellone è il match per eccellenza del gioco del baseball americano ovvero The Rival League Boston New York Yankees. È stata un'ultima giornata di regular season veramente incredibile che poteva aprirsi a qualunque scenario alla fine si è rispettato un po' quello che era il pronostico a favore di Boston e New York Yankees si è arrivati a un tabellone più tradizionale. In questo primo appuntamento della postseason per quanto riguarda i podcast e le review della MLB parleremo appunto del tabellone che si è andato a creare. Parleremo dell'ultima giornata di regular season che è qualcosa di allucinante e della classifica finale. Dopodiché parleremo appunto del tabellone in sé per sé e magari proviamo ad azzardare qualche pronostico al netto che in questo sport è veramente complicato a zeccarne uno. Abbiamo detto appunto che siamo arrivati al termine della stagione regolare 2021 ma era tutto forché ancora deciso perché evidentemente l'ultima giornata di regular season doveva ancora assegnare diversi titoli. In particolare la wild card della American League e tra poco spiegheremo tutte le varie combinazioni possibili e immaginabili perché ragazzi sono qualcosa veramente di folle e incredibile. E bisognava anche assegnare il titolo della National League West che ancora dopo 161 partite, 262, era ancora in ballo tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers. E vedremo poi dopo anche i record di queste due squadre per farvi capire quanto quest'anno la National League West sia stato qualcosa veramente di clamoroso. Tutte le altre squadre che invece vediamo nel tabellone avevano già praticamente acquisito l'accesso ai playoff già da diverso tempo. Ma appunto come dicevo la National League West e la wild card dell'American League erano il clou del programma dell'ultima giornata. Che si è conclusa di fatto domenica con tante partite che erano in programma da seguire con attenzione. In particolare per l'American League wild card erano coinvolte potenzialmente quattro squadre. I Boston Red Sox, i New York Yankees, i Seattle Mariners e i Toronto Blue Jays. In caso tradizionale quindi di vittoria di Boston e New York così come effettivamente è accaduto le due squadre si andavano direttamente a qualificare per la wild card. Se una delle prime due squadre avesse avuto invece un passo falso e Seattle o Toronto avessero vinto ci sarebbe stata l'ipota addirittura di uno spareggio. E di conseguenza ci sarebbe stato bisogno di disegnare tre squadre che avrebbero dovuto giocare tra lunedì e martedì in una sorta di triangolare di spareggio per accedere di fatto alla wild card che andava appunto ad assegnarsi in un modo diverso dalla qualificazione diretta. Dal momento che appunto se avessero perso, facciamo per esempio New York e Boston, avessero vinto o Toronto o Seattle si sarebbe creato uno scenario a tre squadre con lo stesso identico record. E la cosa ancora peggiore è che si sarebbe potuto creare addirittura uno scenario a quattro squadre qualora appunto alla contesa si fossero aggiunti, scusatemi, i Seattle Mariners che in realtà poi come vedremo hanno abdicato proprio all'ultima giornata. Alla fine il buon senso diciamo ha prevalso e Boston e New York hanno vinto ma hanno vinto diciamo delle partite banali e scontate nonostante come vediamo appunto dal tabellone dei punteggi dell'ultima giornata giocassero con squadre che per vari motivi non avessero niente da chiedere. Partiamo proprio in ordine del tabellone e vediamo la sfida tra Boston Red Sox e Washington Nationals e come vediamo i Red Sox giocavano contro quello che rimaneva dei Washington Nationals una squadra che è stata di fatto distrutta e disintegrata dopo la 3 deadline di luglio eppure non era un risultato così scontato perché i Red Sox hanno dovuto sudarla questa vittoria la vittoria per 7-5 è arrivata nelle riprese conclusive e addirittura Washington era in vantaggio in un match che sulla carta soprattutto per quanto riguarda anche il duello dei lanciatori era tutto forché aperto a favore dei Nationals. Washington schierava un lanciatore esordiente assoluto mentre Boston andava sul sicuro e ha schierato Chris Hale uno delle punte di diamante almeno a nomi per quanto riguarda la rotazione appunto dei Sox eppure il punteggio diceva Washington 5 e Boston 2 alla fine poi i Red Sox l'hanno spuntata e se la sono aggiudicata ma appunto come hanno sempre ribadito anche in telecronica ha detto Nicola e Delino Freri nel racconto dell'ultima giornata di regular season nel meraviglioso gioco del baseball è difficilissimo avere delle squadre che lasciano appunto una partita al caso nessuno ti regala niente e poteva scapparci anche l'upset upset che non è capitato anche nell'altra partita clou della giornata ovvero quella dello Yankee Stadium tra Tampa Bay Rays e appunto New York Yankees una partita che come vediamo dal punteggio che vedete nella seconda riga sinistra è finita 1-0 per gli Yankees un 1-0 peraltro maturato al nono inning dopo che tutta la partita le difese hanno fatto delle prestazioni incredibili e ci poteva effettivamente essere il risultato in bilico alla fine un singolo che porta a casa il pinch runner Tyler Wade fa avanzare di diritto gli Yankees ai playoff ma anche qui si ripete il discorso che ha fatto per Boston se Washington non aveva interessi in questa partita diretta perché era già di fatto eliminata clamorosamente dai playoff da due mesi a questa parte stesso discorso ma in maniera diversa si può porre per i Tampa Bay Rays che erano comunque i per primi nella divisione poi dopo vedremo la classifica con un record di 100 vittorie potevano migliorare effettivamente il record della loro storia ma era una cosa già evidentemente capitata e di conseguenza gli interessi erano meno eppure Tampa Bay ha schierato la squadra titolare gli Yankees ha schierato la squadra titolare ed è venuto fuori in una partita praticamente da playoff da dentro fuori soprattutto per i Box Bombers che hanno vinto una partita 1-0 con una vaida in meno rispetto a Tampa segno che evidentemente la difesa di Tampa è stato veramente un fattore per 7 inning praticamente ricordiamo che gli Yankees hanno collezionato praticamente due sole valide la vince il missile cubano a Roldis Chapman come partita la perde Fleming che è praticamente il rilievo salito soltanto nel nono e ultimo inning mentre per quanto riguarda i Red Sox il vincente è stato Eduardo Rodriguez il perdente invece è il rilievo Kyle Finnegan con una salvezza abbastanza insperata tra l'altro di Nick Pivetta che di professione farebbe un partente ma per Boston e New York valeva lo stesso discorso questa 180esima partita di regular season era di fatto una gara 7 di World Series anticipata e dunque ci sta a vedere qualche partente fare un rilievo per quanto riguarda la situazione American League le altre partite che coinvolgevano direttamente le altre due squadre potenzialmente in ottica playoff era Baltimore Orioles contro Toronto Blue Jays pratica risolta facilissimamente dai Blue Jays vittoria netta 12 a 4 contro una delle peggiore squadre della Lega ovvero i Baltimore Orioles la porta a casa Juan Jin Ryu e la perde Zimmerman per quanto riguarda appunto i Baltimore Orioles discorso invece appunto diverso va fatto per i Seattle Mariners e dunque scendiamo con la nostra grafica verso la partita appunto del T-Mobile Park in una partita che gli Angels hanno vinto di fatto escludendo i Mariners dai playoff Seattle non è mai stato in partita di fatto in questo match decisivo fa male evidentemente per i tifosi dei Seattle Mariners perdere l'accesso ai playoff con una squadra già fanta eliminata ma ripeto il baseball è questo nessuno ti regala niente e gli Angels hanno onorato l'ultima giornata di American League e di regular season con una vittoria peraltro anche abbastanza netta 7 a 3 nonostante un divario di valide non probabilmente incredibile perché 10 sono valide per gli Angels e 9 per i Mariners vincente è Ortega la perde Anderson Seattle però comunque ragazzi fate attenzione perché come i Toronto Blue Jays sono una squadra molto futuribile per gli anni a venire vedo più messi meglio come potenzialità i Toronto Blue Jays ma anche Seattle non è da sottovalutare va detto che comunque in un'ottica playoff Seattle e Toronto partivano di fatto molto arretrati diciamo in terza e quarta posizione mentre appunto Boston e New York avevano già comunque una partita di vantaggio prima dell'ultima giornata avendo appunto vinto sia i Red Sox sia gli Yankees il problema non si sarebbe posto e infatti è successo così inutile la vittoria di Toronto Seattle appunto si è auto eliminata con la sconfitta contro i Los Angeles Angels of Anaheim e questo era lo scenario pazzesco dell'American League che alla fine premia le due squadre che erano in vantaggio prima dell'ultima giornata e di conseguenza la wild card sarà Boston Red Sox contro New York Yankees diciamo una partitina discreta e interessante per quanto riguarda invece le altre due contendenti per quanto riguarda il titolo da assegnare parliamo di Dodgers e Giants e andiamo a vedere i Dodgers che partivano incredibilmente da sfavoriti e dico incredibilmente perché come sapete benissimo i Los Angeles Dodgers non solo sono i campioni in carica ma hanno anche il monte stipendi più alto hanno fatto una campagna acquisti faronica c'era la sfida contro un'altra già qualificata ai playoff ovvero il Milwaukee Brewers facile vittoria per i Dodgers 10 a 3 con una grande prestazione di Walker Bueller che si confermano dei migliori lanciatori di questa stagione e probabilmente è un candidato al Cy Young Award la perde Aaron Ashby lancettore giovane per quanto riguarda i Milwaukee Brewers che comunque anche in questo caso non avevano niente da chiedere c'è pure la salvezza la prima della stagione per Jackson la vittoria però dei Dodgers è inutile perché prima di questa ultima giornata di regular season avevano una partita di svantaggio sui Giants che compiono letteralmente l'impresa contro i San Diego Padres l'impresa è quella evidentemente di battere i Dodgers che sulla carta erano superiori ai Giants e agli stessi Padres e alla fine con una squadra di ultra veterani e a suono di fuoricampo i Giants conquistano un titolo di division insperato con un record pazzesco 107 vittorie a fronte di 55 sconfitte la vittoria è molto facile contro San Diego una delle grandi delusioni di questo campionato e tra poco lo vedremo anche perché il vincente Logan Webb che si toglie anche l'uso di sbatterla fuori con un super pepi durante la partita e la perde Cnera la sua terza partenza in stagione seconda sconfitta stagionale per i Nascutori di San Diego che abbandona malissimo la regular season già veramente ancora prima delle ultime giornate di campionato ed è veramente una delusione per la squadra che era data sulla carta seconda ai Los Angeles Dodgers e praticamente certa del posto wildcard cosa che in realtà è stata così fino a settembre ma se avete notato c'è una squadra che andrà a affrontare i Los Angeles Dodgers per quanto riguarda la wildcard della National League e saranno i San Luis Cardinals che hanno fatto anche loro un mese di settembre fantascientifico tutto questo però è prima del nostro consueto recap e dunque possiamo ufficializzare i record delle squadre e concludere la regular season con questi record e ricapitoliamo anche dunque i titoli assegnati e come si andrà a comporre il tabellone nonché andremo a verificare anche dei record individuali parliamo come al solito dell'American Leaguist come prima division come detto Tampa Bay migliore record della sua storia in American League con 100 vittorie 102 sconfitte primissimo posto manco primo nei confronti degli altri avversari a 8 partite di stacco a pari merito vanno Boston e New York come spiegato però prima sono ampiamente qualificati per il wildcard game è esclusa Toronto che comunque finisce quarta ma con un record incredibile 91 vittorie 71 sconfitte l'unica squadra che non fa testo in questa division causa appunto una rifondazione continua e molto lunga sono i Baltimore Orioles che hanno comunque di che come dire gioire visto che hanno trovato in Cedric Mullens uno dei giocatori su cui assolutamente rifondare la squadra oltre che aver ritrovato un tre mansini operoso in battuta e questa è sicuramente la notizia più bella vista la malattia bruttissima che ha dovuto diciamo lottare tra i mansini l'American League Central vede soltanto una qualificata alla postseason e sono i Chicago White Sox che hanno avuto ragione praticamente degli avversari di fatto dominando in lunghi lago i White Sox sono stati una delle prime squadre a essersi qualificate al tabellone della postseason 93 vittorie e 69 sconfitte per la squadra di Tony La Russa chiudono la loro carriera i Cleveland Indians con 80 vinte 82 perse quindi 13 partite di distacco dai White Sox il record appena sotto al 50% dico l'ultima partita della loro storia perché i Cleveland Indians ricordiamo che cambieranno nome dall'anno prossimo e si trasformeranno nei nuovi Cleveland Guardians sorprende Detroit al terzo posto di questa division 77 vinte 85 perse e a sua volta sorprende Kansas City 64-88 delude ancora una volta Minnesota ma oramai sappiamo che dopo il mese di maggio già i Twins non avevano più velleità di qualificazione alla postseason e di fatto hanno ceduto tantissimi pezzi a concorrenti più titolati per la qualificazione ai playoff mi viene in mente Joseber Rios che è andato ai Toronto Blue Jays e soprattutto Nelson Cruz che è andato a fare il battitore di 100 titolare ai Tampa Bay Rays che insomma come avete visto ha fatto una stagione più che discreta sorprende invece Detroit quindi nonostante il record perdente i Tigers hanno una stagione molto positiva perché anche i Tigers erano dati in rifondazione completa è incredibile e comunque hanno fatto una stagione dignitosa perché in una divisione non così competitiva visto lo stradominio dei White Sox essere diciamo arrivati terzi a tre partite di distacco dai Cleveland Indians e giocandosela con i Royals e con i Twins evidentemente è segno di una buona ricostruzione e chissà se tra qualche anno come da precedente la giudizia dei Tigers la formazione del Michigan tornerà a essere quella che andò in finale delle World Series già oramai nel lontano 2012 c'è una qualificata anche nella American League West e sono gli Houston Astros con 95 vittorie e 67 sconfitte i Seattle Mariners come avevo detto vengono esclusi dalla Wild Card perdendo contro Los Angeles Angels che finiscono quarti a 77 vittorie 85 sconfitte in mezzo c'è Oakland che anche lei era di fatto una contender ma paga di fatto un mese di settembre abbastanza altalenante chiudono i Texas Rangers sull'ultimo posto 60 vittorie 102 sconfitte per la formazione dello stadio che ha ospitato le ultime World Series Dodgers contro Tampa Bay situazione della National League invece nella National League East gli Atlanta Braves sono qualificati vincono il quarto titolo consecutivo della division con 88 vinte e 73 perse gli Atlanta Braves sono di fatto la peggior squadra di fatto come record sfruttano il fatto comunque di aver avuto una division non così competitiva come le altre sfruttano il fatto che i New York Mets ci sono di fatto autodistrutti perdendo partita ripetizione tra agosto e settembre e paradossalmente i Mets sono una delle delusioni incredibili di questo campionato probabilmente al pari di Minnesota e San Diego perché i Mets hanno fatto una serie di investimenti incredibili e per quelli che hanno preso di fatto anche nella 3 Deadline è clamoroso che non abbiano neanche lottato per arrivare alla postseason ricordiamo che la 3 Deadline i Mets hanno preso Javier Baez ma tra difficoltà di ambiente e un attacco incredibilmente sterile i Mets l'hanno ancora una volta buttata via dopo 100 giorni di fatto consecutivi in testa alla division in mezzo ci sono i Philadelphia Phillies che comunque anche loro hanno abdicato a settembre chiudono i Miami Marlins che addirittura finiscono quarti ai diciamo danni dei Washington Nationals che la chiudono di fatto in fondo questa National League East ma va detto che i Nationals sono di fatto una squadra allo sbando dopo che hanno ceduto praticamente chiunque tranne Juan Soto a tutte le concorrenti possibili e immaginabili per i playoff scelta abbastanza incredibile così come è stata fatta diciamo a Chicago ma sponda a proposito di Cubs parliamo della National League Central che vede qualificati i Milwaukee Brewers come primi della divisione e vanno ad affrontare gli Atlanta Braves in una serie molto equilibrata almeno delle 5 partite 95 vittorie 66 sconfitte per quanto riguarda i Brewers la sorpresa più incredibile sono i St. Louis Cardinals che hanno infilato un mese di settembre pazzesco i St. Louis Cardinals non avevano praticamente chance a inizio settembre di qualificarsi ai playoff e invece la formazione che ha comunque molta tradizione perché ricordiamo i St. Louis Cardinals sono la seconda squadra più trattata della storia del gioco con 12 titoli hanno infilato una serie di 17 vittorie consecutive e hanno rimontato posizioni su posizioni partita dopo partita e hanno compiuto veramente un'impresa incredibile scalzando i Cincinnati Reds rivali diretti di division ma anche i San Diego Padres che come i Mets sono di fatto implosi a settembre anche i Cincinnati era una squadra che ha sorpreso probabilmente ha overperformato la formazione dell'Ohio ma comunque ha trovato degli elementi molto interessanti su cui puntare in particolare i due All Star Nicholas Castellanos e Adam Winkler anzi Jesse Winkler a memoria fatto sta che St. Louis torna ai playoff e ci arriva veramente carica attenzione ai Cardinals perché in una partita secca è molto molto difficile andarli a battere oltre ai signati Reds concludiamo la classifica ci sono i Chicago Cubs 71 vinta e 91 perse che fanno meglio dell'altra squadra derilita ovvero i Washington Nationals chiudono i Pittsburgh Pirates 61 vittorie e 101 sconfitte anche i Pirates sono una squadra in ricostruzione hanno comunque avuto il lusso e il privilegio di avere due All Star anche loro titolari all'All Star Game ovvero Brian Reynolds all'esterno centro rimasto a Pittsburgh e Adam Frazier che era andato a rinforzare di fatto il reparto interno di San Diego però San Diego come vediamo ha avuto una debacle incredibile d'accordo che la National League East anzi West aveva due squadre che hanno fatto la stagione della vita soprattutto i San Francisco Giants che di fatto tornano a vincere il titolo di division dopo di fatto l'ultimo fu il 2014 anno dove a memoria vinsero con una World Series incredibile di Madison la mezza delusione sono i Los Angeles Dodgers mezza perché come ricordiamo sono la squadra che spende di più nella Lega MLB sono i campioni in carica e sulla carta doveva essere la divisione scritta con appunto la vittoria dei Dodgers che invece hanno trovato una squadra veramente compatta che la sbatte fuori con una certa continuità e che ha avuto anche ragione negli scontri diretti e alla fine abbiamo una division nella National League West veramente incredibile perché io non mi ricordo aver visto non solo una squadra vincere con 107 vittorie a memoria ma non ho mai visto una seconda qualificata di fatto alla Wild Card con 106 vittorie il che significa che erano veramente due squadre che hanno dato veramente le piste agli avversari per San Diego Colorado e Arizona come vedete c'era molto poco da fare d'accordo Arizona ha avuto una stagione disgraziata con una serie di sconfitte consecutive praticamente al pari dei Baltimore Orioles Colorado non ha mai avuto voce in capitolo comunque fa una stagione più che onesta con 74 vittorie 87 sconfitte delude moltissimo San Diego San Diego con un potenziale di talento incredibile tra Tatis Manny Machado appunto avevano il diamante tutto al star con James Cronenworth e Adam Frazier per non parlare di altri giocatori fondamentali vedi per esempio Eric Cosmer il reparto lanciatori che quello purtroppo invece è deluso sulla carta invece il reparto lanciatori di San Diego era veramente interessante San Diego è anche lei in plosa a settembre e un po' come i Mets di fatto sono la delusione principale della National League San Diego anche comunque è una squadra futuribile dunque ci sarà da tenere d'occhio la formazione dei Padres certo che ci sarà un attimo da mettere un attimo le idee a posto dopo una stagione che era partita nel migliore dei modi con una lotta di fatto al pari dei Dodgers e di fatto una qualificazione playoff che era nelle loro mani nonostante di fatto già si intravedeva un calo e invece il calo è continuato e chiudono a 28 28 partite di distacco dai San Francisco Giants delle meraviglie che si qualificano e vedremo poi come andrà il tabellone anche perché attenzione che i San Francisco Giants riescono a trovare un primo turno di playoff non propriamente felicissimo ma tra poco ne parliamo parliamo invece di quelli che sono dei record individuali di questa record season e di possibili candidature all'NVP prima di passare alla parte succosa della MLB review di oggi con il tabellone della post season c'è il miglior record per quanto riguarda il fuoricampo della Lega e lo compie quest'uomo Salvador Perez dei Kansas City Royals che hanno avuto una stagione veramente disastrosa per il loro potenziale ma Salvador Perez detto El Nino si conferma un giocatore incredibile sia per il ruolo che ricopro per quello di ricevitore sia come attaccante e appunto compie il record di fuoricampo della stagione sono 48 48 super pepi per il venezuelano Salvador Perez con 121 RBI e 273 di media battuta e quindi probabilmente al giocatore venezuelano andrà la diciamo mazza d'argento il titolo del miglior slugger c'è un altro record che in realtà non confererà dei premi individuali ma è da tenere d'occhio e da rimarcare parliamo di Marcus Simeon dei Toronto Blue Jays che con 45 fuoricampo di fatto detiene ad adesso il nuovo record per quanto riguarda il numero di fuoricampo per un seconda base Marcus Simeon è stato un grande acquisto in modo di vedere da parte dei Toronto Blue Jays Marcus Simeon ha avuto un grande passato a Oakland un acquisto che non è magari passato alla luce dei riflettori perché sono magari anche con altre deadline diciamo stati notati altri nomi eppure Simeon si è ritrovato a essere un giocatore funzionale al sistema dei Toronto Blue Jays è anche un veterano perché parliamo di un classe 90 e una squadra molto molto giovane dei Toronto Blue Jays evidentemente un qualcuno che la indichi quella strada ci vuole e Simeon merita sicuramente tantissimo rispetto per le statistiche portate 45 fuoricampo veramente per un seconda base non si sono mai viste nella storia del meraviglioso gioco del baseball così come non si è mai visto un giocatore di questo tipo ed è ancora una volta l'occasione per celebrare Shohei Otani che veramente fa quello che ne ha voglia sia come lanciatore e vediamo che già lancia bene perché quest'anno chiude a 9 vinte e 2 perse ma quello che fa impressione è come batte questo ragazzo che peraltro ha la vita è un classe 94 la prima stagione vera di Otani finisce con queste statistiche 257 di media battuta 46 fuoricampo è semplicemente terzo se non sbaglio nella gradatoria dei super pepi perché al secondo posto c'è Vladimir Guerreiro Jr altro giocatore incredibile dei Toronto Blue Jazz con 47 100 RBI puliti puliti per il giapponese che veramente si dimostra un giocatore unico perché come ripetevo già in qualche podcast precedente si vedeva Babe Ruth lanciare e battere con una certa continuità ed è probabilmente nei tempi di Babe Ruth che non si vede un lanciatore e un giocatore così totale che può fare praticamente quello che vuole lanciare e battere in maniera abbastanza dominante certo è più importante come battitore paradossalmente in questo momento ma comunque gli Angels hanno di che comunque gioire delle sue statistiche certo vedere la squadra di Mike Trout che non ha giocato praticamente tutto l'anno causa grande infortunio e Otani non qualificarsi nemmeno ai playoff per l'ennesima volta fa un po' rabbia soprattutto per chi come me li vorrebbe vedere da tifoso esterno un po' più nei posti che li compensano ricordiamo che gli Angels anche loro sono una squadra che fa una marea di investimenti e purtroppo non riesce mai a qualificarsi alla postseason soprattutto considerato il monte di lancio che Otani a parte è praticamente un mezzo disastro peraltro appunto gli Angels avevano Albert Pujols non di certo l'ultimo arrivato che è andato ai Dodgers in questa tre deadline e avevano anche preso Anthony Rendon che è veramente a terza base trovarne in giro di Anthony Rendon fatto sta che finito adesso il recap dei record individuali e di quelle che sono statistiche di MVP probabilmente di Otani e probabilmente con queste cose è evidente che il giapponese possa essere quantomeno uno dei candidati parliamo finalmente di questa postseason perché dopo tutto il marasma dell'ultima giornata torniamo alla schermata iniziale e parliamo di questi playoff che sono tornati al format tradizionale della MLB 10 squadre qualificate non più 16 come è capitato nella stagione covid 2020 con pochissimi partiti di regular season e playoff allargati qui torniamo al format tradizionale quindi con Wild Card Game partita secca la vincente del Wild Card Game affronterà di fatto la miglior diciamo qualificata come record delle due leghe nel caso della sfida tra Boston e New York Yankees si affronterà appunto i Tampa Bay Rays nel caso della National League si affronteranno i San Francisco Giants e per questo motivo sono entrambi sfide di Wild Card veramente incredibili e chi sarà qualificato come number one seed diciamo quindi Tampa Bay e San Francisco si troverà di fronte un primo turno veramente di altissimo livello quest'anno tutte le squadre qualificate ai playoff sono potenzialmente delle vincitrici del titolo perché hanno delle qualità sicuramente indiscusse per cui fare pronostici è veramente complicato fatto sta che come al solito i playoff si configureranno in questo modo Wild Card Game partita secca è di fatto quella che io chiamo la partita della morte una gara sette di World Series anticipata una gara da win or go home chi avrà la meglio nella partita secca e lo vedremo già stasera con Boston New York andrà avanti e affronterà Tampa Bay o San Francisco se parliamo di National League chi perde è di fatto eliminata dalla postseason ancora prima di cominciarla dalle division series si andrà al meglio delle cinque partite dalle championship series in poi si andrà al meglio delle sette partite con il culmine dall'ultima settimana di ottobre dal 26 di ottobre se non sbaglio ci saranno le World Series nel format tradizionale quindi 2-3-2 con fattore campo evidentemente su chi avrà il miglior record tra le squadre qualificate per quanto riguarda le due wildcard focalizziamoci adesso su queste due sfide perché sono veramente due sfide pazzesche che veramente ci faranno incollare agli schermi già da stasera perché ricordiamo che alle 8 Eastern Time ci sarà la sfida tra Boston e New York alle 2 ore italiana stesso discorso sarà domani per quanto riguarda Los Angeles e St. Louis è veramente difficile fare un po' gnostico perché essendo squadre talmente di alto livello è veramente come dire tutto aperto si può qualificare New York come Boston e anche la grande sorpresa St. Louis può tirare un grande scherzo ai campioni in carica ed è questo un po' la crudeltà di questo wildcard game che dà di fatto una chance sola e dunque per questo motivo una partita secca con queste squadre è veramente impossibile da pronosticare soprattutto per quanto riguarda anche la sfida di National League perché i St. Louis Cardinals ripeto sono arrivati da 17 vittorie consecutive a settembre e si sono qualificati con un impito incredibile e in partita secca è veramente complicato fermare una squadra lanciata così mentre i Dodgers dall'altro canto ci arrivano un pochino demotivati dopo aver perso il titolo di division che era di fatto scritto nella pietra prima della stagione e devono di fatto passare dalla wildcard e qualora i Cardinals dovessero vincere ragazzi parliamo dei campioni in carica dei Dodgers eliminati già neanche al primo turno ma veramente alla partita della morte e sarebbe qualcosa di clamoroso fatto sta che quella che appresteremo a vedere in questi due giorni sarà una serie di gare 7 di World Series anticipate e partiamo da Boston New York The Rivalry una partita che non ha neanche bisogno di presentazioni una partita che ha segnato pagine e pagine importanti di storia del baseball anche più grandi di questa Wildcard Game ricordiamo la grande rimonta da 0-3 a 4-3 dei Boston Red Sox per spezzare poi anche conseguentemente la maniazione del bambino con la vittoria del titolo delle World Series del 2004 qui non è evidentemente in paglio il titolo della MLB 2021 ma è una partita che può veramente segnare addirittura tutta la postseason perché far fuori gli eterni rivali da una parte dall'altra può dare una carica emotiva ai playoff supplementari e arrivare con la testa giusta in questa postseason che non ti lascia sconti è veramente qualcosa di importante e un quid in più per puntare a qualcosa di grosso i probabili partenti per quanto riguarda la gara di American League di stasera per Boston sarà il lanciatore destro Nathan Eovaldi anche lui classe 90 una stagione abbastanza interlocutoria va detto per il numero 17 tra l'altro grande exit della partita perché anche Eovaldi ha militato negli Yankees nella stagione 2015 a memoria 11 vittorie 9 perse per Nathan Eovaldi con una media ERA di 3,75 dall'altra parte c'è l'asso sul monte dei New York Yankees come partente ovvero Garrett Cole il grande colpo di mercato degli Yankees dello scorso anno ricordiamo che Cole è stato acquistato per un contratto totale di 9 anni a 245 milioni complessivi stagione fantastica di Garrett Cole 16 vittorie e 8 scomofitte 3,23 di media ERA anche Garrett Cole potrebbe essere uno candidato per quanto riguarda il Sayang Award dell'American League parliamo invece dell'altra partita chi saranno i lanciatori partenti delle due formazioni abbiamo una certezza e sarà quella dei St. Louis Cardinals che hanno ritrovato un Adam Wainwright sontuoso a 39 anni il grande veterano della formazione dei St. Louis Cardinals ha riacquisito dei livelli di gioco veramente di livello altissimo 17 vittorie 7 sconfitte 3,05 di media ERA chi ha una media nelle vicenze del 3 in MLB vuol dire che è veramente a dei livelli altissimi Adam Wainwright dopo tante secondi di difficoltà è riuscito a tornare a dei livelli che gli competono e a 40 anni certo non è una cosa da poco sarà una grande sfida contro il lanciatore più importante in questo momento dei Los Angeles Dodgers e non è quest'uomo perché ricordiamo che Clayton Kershaw ha annunciato pochi giorni fa di non riuscire a lanciare più in questa postseason di conseguenza le statistiche che vediamo qui 10 vittorie 8 sconfitte 3,55 di media ERA sono le statistiche definitive per Clay Shaw che dunque non sarà in campo a difendere il titolo dei Los Angeles Dodgers tuttavia i Los Angeles Dodgers sono coperti perché ci sarà probabilmente anzi quasi sicuramente Max Scherzer che è uno dei grandi acquisti dei Los Angeles Dodgers è arrivato quest'anno dai Washington Nationals che hanno di fatto svenduto e smantellato la squadra e Scherzer ha fatto lo Scherzer già anche ai Los Angeles Dodgers nel complessivo sono 15 vinte 4 perse 2,46 di media ERA Scherzer sarà il lanciatore su cui puntare assolutamente in questa Wild Card Game nelle ultime 7 partite con i Dodgers 4 vinte 0 perse 1,91 di media ERA sono statistiche allucinanti per quello che sarà l'assicurazione dei Los Angeles Dodgers e di conseguenza è una partita da tutto o niente è giusto puntare sul numero 31 nella speranza che appunto i Dodgers riescano a averla meglio su questi San Luis Cardinals ma ripeto come ho detto più volte questi Cardinals sono difficili da battere soprattutto in una partita secca su una serie già di 5 partite probabilmente i Dodgers sarebbero un po' più favoriti ma è una gara secca attenzione perché l'upset è veramente dietro l'angolo aspetteremo poi giovedì per vedere il tabellone che si completerà ricordiamo che la vincente tra Boston e New York andrà a affrontare Tampa Bay una sera al meglio delle 5 e la vincente tra Los Angeles e San Luis andrà a affrontare San Francisco che dunque aspettano un primo turno veramente di fuoco delle serie del primo turno sicuramente sono tutte molto equilibrate la più equilibrata secondo me sarà Atlanta Milwaukee perché Atlanta come ho detto prima è la peggior squadra qualificata con appunto il peggior record anche se comunque parliamo di un record di quasi 90 vittorie di là ci sono i Milwaukee Brewers che trovano un accompagnamento sicuramente più agevole per quanto gli riguarda e potrebbe essere come dire un buon accompagnamento per carburare considerato che appunto i Brewers hanno di fatto acquisito la qualificazione tantissimo tempo fa e dunque attenzione al fattore scarico mentale l'altra serie sicuramente certa sarà quella tra Chicago White Sox e Houston Astros per una mia personale simpatia mi auguro possano passare i Chicago White Sox anche l'anno scorso erano arrivati ai playoff hanno però perso in tre partite se non sbaglio al primo turno qui hanno cinque partite al meglio ovviamente delle possibilità per andare avanti sono di fronte alla squadra più alta della Lega perché parliamo di Houston Astros che sono di fatto detestati da tutte le altre 29 squadre per aver di fatto rubato i segnali con uno scandalo che ha sospeso AJ Hinch e Alex Cora i White Sox hanno dimostrato di avere tantissimo potenziale soprattutto dal punto di vista offensivo hanno anche un mondo di rilancio molto interessante probabilmente superiore leggermente agli Houston Astros che però sono una squadra abituata a questo contesto quindi è difficile affrontare gli Astros in qualunque condizione mi auguro comunque che i White Sox possano spuntarla spero in 4 o in 5 partite ma di questo ne riparleremo ovviamente nel prossimo MLB Review come si tratturano a proposito dunque queste review della postseason cercherò di fare un aggiornamento di fatto a ogni fine turno non sarà così già ve lo dico per quanto riguarda il Wild Card Game ma a ogni fine primo turno aggiorneremo il tabellone e parleremo delle partite di tornasole le più importanti di ogni serie quindi sia Division Series di American League sia Division Series di National League e poi ci addentreremo alle Championship Series presenteremo anche le World Series e come al solito chiuderemo a inizio novembre questa lunga carrellata dei podcast sull'MLB con l'analisi del titolo MLB 2021 ce la faranno i dodici a riconfermare il titolo a partire dalla Wild Card sarà la sorpresa dei San Francisco Già negli ultratrentenni che tornano a vincere dopo sette anni ci sarà la conferma magari dei Tampa Bay Rays che vogliono bissare la finale dello scorso anno e magari vincerla chi lo sa passa tutto da questi playoff a partire dal Wild Card Game ricordiamo ancora una volta stasera alle due di notte ora italiana The Rivalry Boston New York che si gioca a Fenway Park si gioca il giorno dopo invece sempre alle due ore italiana Los Angeles Dodgers Central East Cardinals saranno dei playoff veramente incredibili veramente per tutti i tifosi italiani che a me guarderanno questo video buona possession a tutti fate sapere il vostro pronostico se la vostra squadra è coinvolta in questi playoff e se siete tifosi esterni come me chi vedete come favoriti è veramente difficile fare un pronostico ma comunque siamo qui per giocare e vedremo al termine del World Series chi ci aveva preso e chi no veramente buona possession a tutti di nuovo il saluto da parte di me Torgaard ci vediamo presto a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video